Si è avvicinato alla mamma di una bambina di 8 anni e le ha offerto oltre 100.000 dollari per acquistare la piccola. L'episodio si è verificato a Port Orange, in Florida. A finire in manette è Helmut Kolb, un uomo di 85 anni. La notizia è stata resa nota dal dipartimento di polizia di Port Orange. L'uomo avrebbe infatti avvicinato la mamma in un negozio di alimentari nella giornata di giovedì 25 agosto. L'85enne, sempre in base a quanto riportato dalla polizia e dalla West TV, era in libertà vigilata. Kolb non poteva avvicinarsi ai bambini dopo che alcuni anni fa, precisamente nel 2018, aveva cercato di comprare un altro minorenne. La polizia è stata allertata dalla mamma della piccola. La donna ha infatti raccontato agli investigatori che pensava che l'uomo fosse solo un vecchio solitario. Quando si è avvicinato è iniziato a fare commenti su quanto fosse carina. Kolb avrebbe poi detto che non ha mai potuto avere figli e che avrebbe tanto voluto averne uno. La madre della piccola ha quindi specificato che da quel momento la conversazione è iniziato a prendere una svolta oscura. Dopo la chiacchierata, la donna avrebbe proseguito con i suoi acquisti, ma l'85enne l'avrebbe avvicinata un'altra volta al parcheggio del negozio alimentari e le avrebbe proposto l'assurdo patto. Vorrei comprarla per 100.000 dollari. Ero completamente scioccata. La donna ha poi ribadito la necessità che l'uomo paghi per i crimini che ha commesso.